mercoledì 6 gennaio 2020 benvenuti bentornati nuovo appuntamento con la tecnologia inizia il quinto anno di etec inizia la sesta stagione del podcast e onestamente sono felice di essere tornato qui davanti al microfono in questo anno speciale per il podcast perché a dicembre abbiamo festeggiato i dieci anni di easy podcast di easy apple in particolar modo nel 2019 abbiamo fatto lo stesso con digitalia e quelli sono podcast fondamentali sono i podcast fondanti di questa cultura soprattutto dei podcast tecnologici però la cosa che mi soddisfa è essere arrivato ad un traguardo così importante perché comunque negli anni avevo già fatto altri progetti avevo già parlato di tecnologia in altri modi questo in teoria sarebbe dovuto essere il nonno anno di un podcast se tutti i miei progetti fossero stati confluiti in in un unico grande flusso però diciamo che non ero soddisfatto quindi iniziavo e poi smettevo e poi iniziavo e poi smettevo però alla fine a partire dall'inizio del 2016 di settimana in settimana mi sono messo davanti al microfono ho iniziato a parlare ho portato comunque avanti un progetto che poi mi ha portato ad essere qui cinque anni dopo domani saranno cinque anni dalla pubblicazione di un episodio che non vi consiglio di ascoltare soprattutto per la qualità che poi mi permettono ogni sette giorni di raccontare una passione che non si è mai fermato una passione in realtà che è aumentata e una passione che vuole essere il fulcro di questo quinto anno di questa stessa stagione perché ovviamente un podcast per me è qualcosa di fantastico perché comunque posso cercare di settimana in settimana di ragionare su una passione di raccontarvi il mio punto di vista di ricevere poi da parte vostra il feedback di poterne parlare anche poi in puntata con con amici e alla fine quello che succede è rinnovare la passione di settimana in settimana e in teoria avrei voluto fare per esempio una live di cinque ore per celebrare i cinque anni però poi mi sono detto ma alla fine il contenuto poi sarebbe stato fruibile qualcuno avrebbe avuto interesse di seguirmi a blatterare di tecnologia per cinque ore forse no allora cosa posso fare e poi la risposta come al solito è la più semplice mettermi davanti al microfono parlare di quello che mi piace per i soliti 45 minuti e fare in modo che la tecnologia sia il miglior modo per festeggiare in questo 2021 speriamo che la tecnologia sia il fulcro così come lo è stato nel 2020 magari in maniera più tangente rispetto in realtà ad un 2020 in cui abbiamo raccontato il ruolo centrale della tecnologia però mi piacerebbe semplicemente di settimana in settimana mettermi qui e rinnovare la promessa che avevo fatto a me stesso all'inizio raccontare personalmente la tecnologia farlo in modo personale e semplicemente parlare di ciò che ci piace per cui come festeggiamo mettendo la sigla e poi parliamo di tecnologia quindi epifania 2021 siamo giunti alla fine delle feste da domani si torna quasi ad una completa normalità che speriamo possa divenire tale durante il corso dell'anno ma onestamente credo che la normalità non sia la parola giusta per descrivere il mondo tecnologico che vedremo in questo nuovo 2021 perché onestamente il 2020 che si è chiuso da poco è stato un anno fondamentale per la storia della tecnologia il processore m1 ha aperto grandi spiragli ma soprattutto è un seme che vedremo germogliare nonostante sia anche m1 un frutto il frutto di dieci anni di lavoro appunto dal primo processore apple silicon in questo caso per ipad e per iphone in realtà ha già fatto fare un balzo significativo al mac però come dicevamo nell'episodio della scorsa settimana perché ovviamente è una nuova stagione ma come tutte le serie tv si collega ovviamente a quella precedente e soprattutto mai come quest'anno vedremo tanti legami al 2020 perché comunque il chip m1 montato sul macbook pro sul macbook air e sul mac mini è semplicemente un punto di partenza un punto di partenza che fa girare ottimamente il mac abbiamo visto i confronti con i mac intel abbiamo visto addirittura persone che hanno venduto i macbook pro del 2019 i 16 pollici top di gamma per usare poi un mac con il processore m1 però alla fine la ciccia vera la sostanza la vedremo onestamente in questo anno un anno fondamentale per la crescita della tecnologia perché comunque sarà l'anno principale per la transizione l'abbiamo visto l'anno scorso appunto sia il 22 giugno che il 10 di novembre tra l'annuncio e poi la presentazione dei primi prodotti e tim cook ha detto che la transizione durerà un paio d'anni quindi 2020 ovviamente arriveremo al 2022 probabilmente solo con il mac pro quindi il prodotto top di gamma per eccellenza da presentare però comunque se abbiamo avuto tre modelli lo scorso anno abbiamo un modello il prossimo quest'anno cosa ci aspetta ci aspetta veramente tanto perché comunque dei tre modelli dell'anno scorso solamente un solo modello è pienamente nell'era m1 nell'era apple silicon perché comunque il macbook air è l'unico prodotto in realtà con un processore m1 in tutte le varianti che poi in realtà sono due abbiamo ancora sia i mac mini che i macbook pro da 13 pollici anche in variante intel e questo onestamente è il punto di partenza perché onestamente se apple vende ancora i prodotti intel vuol dire che comunque o per un po di tempo ci sarà ancora il dualismo quindi anche un nuovo macbook pro magari da 14 pollici ovviamente la variante da 16 pollici magari lo stesso mac mini verrà venduto sia con processore m1 x con processore m2 e in variante intel oppure semplicemente in questo 2021 capiremo poi la strada che apple vorrà mettere in tutto questo perché comunque un processore a 8 core che va onestamente bene perché comunque abbiamo visto le prestazioni abbiamo visto le emulazioni già con rosetta 2 abbiamo visto i primi tentativi di porting già di windows e quindi magari non avremo bootcamp però si potrà virtualizzare il sistema operativo di microsoft però onestamente quello che mi auguro è vedere veramente la strada che l'azienda in questo 2020 rinnovato perché comunque è lo scorso anno rinnovato perché la promessa è quella del 2020 rinnovato per cui in questo 2021 vedremo semplicemente la promessa che apple ha fatto per le macchine apple silicon rinnovata in una maniera più importante perché comunque un processore m1 x un processore m2 e si parla già di processore per esempio a 32 core quindi non semplicemente un raddoppio dei core ma addirittura quadruplicare i core semplicemente credo con sempre i quattro core ad alta efficienza e tutti gli altri in realtà ad alte prestazioni possono fare semplicemente un qualcosa di incredibile perché comunque un macbook pro da 14 un macbook pro da 16 un i mac magari anche un i mac pro per quanto in realtà credo che quest'anno ci sia un assottigliamento di alcune categorie e ci arriviamo possono in realtà essere semplicemente le vere star del 2021 nella mente di apple io la vedo anche in modo diverso però credo che il processore m2 o m1 x o entrambi chissà poi cosa vedremo perché comunque il ciclo dovrebbe essere in un modo nell'altro poi parallelo al ciclo dei processori a quindi l'anno scorso abbiamo visto il processore a 14 con l'm1 a stretto giro e onestamente il processore a 14 x che chissà vedremo magari a marzo montato sull'ipad pro del 2021 sarà semplicemente quello che il processore di ipad pro del 2020 è stato definito m0 quindi credo che a questo punto ci sia anche la volontà di apple di legare appunto le due famiglie di processori quindi quello che l'azienda credo voglia fare è quello di partire con basi più solide e le basi più solide non sono semplicemente il processore rinnovato ma è anche poi un aggiornamento di alcuni specifici concetti quindi il concetto di sblocco biometrico nel 2021 vorrei sia portato all'ennesimo livello perché comunque quello che l'azienda ha fatto è semplicemente mettere un touch id solamente su determinate fasce solamente sui portativi quindi i mac non sono tutti compatibili con il face id perché c'è un i mac un i mac pro magari un mac mini mediante un pro display xdr magari semplicemente avere un apple display con porta thunderbolt 3 thunderbolt 4 o usb 4 potrebbe semplicemente essere poi un punto di arrivo e un punto di partenza un punto di arrivo perché è il completamento del cerchio partito nel 2017 con l'iphone 10 nel 2018 con ipad pro appunto di quell'anno e poi onestamente il 2021 vedremo finalmente spero il face id anche sui mac e questo cosa potrebbe dire potrebbe dire far fare anche a quel prodotto un passo in avanti perché onestamente avendo il face id sul mio dispositivo principale quando apro la magic keyboard quando apro la folio cover il dispositivo mi si sblocca e quindi avere la stessa facilità di sblocco che è vero potrei legare poi anche il mac in realtà ad apple watch però è sempre un qualcosa in più che funziona benissimo perché l'ecosistema come abbiamo detto anche nelle scorse puntate a qualcosa di strettamente legato però comunque è sempre una marcia in più quindi avere un prodotto che poi semplicemente potrebbe andar bene per una persona che ha bisogno di un mac ma che poi magari uno smartphone android e quindi magari ha uno smartwatch non compatibile semplicemente con il mac quindi rendere più semplice lo sblocco è un qualcosa che credo nel 2021 ci possa essere e poi il display che per credo almeno le fasce più alte e quindi i macbook pro di fascia alta e magari anche un i mac di fascia alta credo ci sia bisogno appunto di un display che abbia delle notevoli migliorie perché comunque come dicevamo nelle scorse puntate nella seconda puntata in cui abbiamo cercato di riepilogare il 2020 dolby atmos e soprattutto dolby vision sono delle cose che apple ha sposato perché comunque il dolby vision lo abbiamo detto resta comunque in famiglia perché comunque collegando un apple tv a due home pod ho la possibilità di ascoltare un audio coinvolgente ma soprattutto gli iphone possono riprendere in dolby vision dolby vision uguale hdr e quindi credo che poter monitorare e soprattutto poter utilizzare un proprio display hdr per fruire dei contenuti ma non solo pensiamo semplicemente all'influencer che fa un vlog con un iphone 12 pro quindi 60 fps in hdr in 4k perché io non posso avere un mac con un display mini led per monitorare poi il 4k montare un video in 4k e quindi avere poi un prodotto che mi garantisce un ottimo intuito per andare poi magari a fare una color correction più precisa e questo potrebbe essere il punto di partenza su cui poi andare a parare quindi un macbook pro base con due porte thunderbolt un nuovo macbook air semplicemente restano con il display lcd vecchia maniera in realtà appunto i mac i nuovi macbook pro quindi redesign e revolution che è un pochino il sottotitolo di questa annata 20 21 di e tech vorrei in un modo o nell'altro che appunto facessero dei metti passi in avanti così come ovviamente mi aspetto grandi cose d'ipad pro ipad pro credo che nel 2021 possa essere il prodotto da tenere più d'occhio perché quello che abbiamo detto la scorsa settimana è vero apple quest'anno ha potenziato in qualche modo tantissimo una fascia che appunto vedendo quello che che poi è perché comunque se andiamo a vedere il iphone intermedio l'ipad intermedio il mac intermedio è la fascia più ricca del 2020 nel 2021 deve puntare al top lo abbiamo detto sui mac e deve fare la stessa cosa su ipad come stessa cosa che abbiamo detto fino adesso sul mac il processore deve fare un passo significativo si può chiamare a 12 x no si può chiamare 12 z no deve fare un passo contemporaneo perché comunque negli ultimi due ipad pro abbiamo avuto praticamente lo stesso processore con un solo core di gpu sbloccata in questo caso in teoria potremmo addirittura vedere un processore m1 o una 14 x che credo sia un nonno il rebrand l'uno dell'altro comunque sono strettamente collegati quindi non il processore a 14 di ipad air ma semplicemente un netto passi davanti quindi passiamo da un processore extra core a un processore 8 core con 8 gigabyte di memoria ram e poi mettendo semplicemente la scheda tecnica del mac la scheda tecnica dell'ipad a confronto abbiamo la stessa macchina perché comunque un macbook air è fanless l'ipad è fanless e magari con un display maggiorato perché a questo punto credo che le dimensioni del display debbano aumentare o apple fa un solo display quindi c'è solamente ipad pro da 12 9 oppure semplicemente quel 13 pollici lo splitta in due facendo un 12 e un 14 con punto il processore a 14 x con display mini led è l'anno del 5g e quindi non so se arriveremo ad avere già il processore comunque il modem montato nel processore probabilmente sarà una cosa che vedremo o nell'iphone 13 o nell'iphone 14 però a questo punto il 5g deve essere presente e con ciò che abbiamo detto un paio di settimane fa parlando appunto del del vero e proprio re quindi il 5g il re della presentazione appunto dell'iphone 13 dell'iphone 12 scusate in un modo o nell'altro potremmo già vedere delle migliorie perché comunque se poi parlando di software abbiamo delle sovrapposizioni con la magic keyboard abbiamo visto le stesse gesture a me piacerebbe onestamente vedere in un ipad os 14.4 senza aspettare ipad os 15 che poi arriverà inevitabilmente a settembre per cui comunque in sostanza avere un processore montato su un ipad del 2021 di marzo 2021 e non poter sfruttare tutto questo per ulteriori sei mesi io onestamente mi viene la morte nel cuore però credo che se apple dia la possibilità di sfruttare il processore con le stesse applicazioni con appunto la compatibilità con la tastiera l'ipad avrà due facce avrà la faccia ovviamente per l'intrattenimento quindi un display mini led vuol dire appunto non solo fruire dei contenuti in hdr fatti magari addirittura con le stesse fotocamere dell'ipad pro però semplicemente prendo l'iphone faccio un video in hdr e poi me lo riguardo sull'iphone ma semplicemente posso guardare i contenuti in dolby vision nativamente senza in realtà uno schermo lcd in teoria lo schermo più bello per fruire dei contenuti dovrebbe essere l'oled però visto che apple a quanto pare crede sia meglio il mini led soprattutto per l'effetto burn in anche se onestamente purtroppo la questione dei neri non assoluti un pochino non mi va giù devo essere sincero però è un mio limite cioè credo che l'azienda voglia puntare appunto su una nuova linea e quindi appunto si make sugli ipad preferisce utilizzare il mini led per poi aspettare nel 2022 o nel 2023 tutta la gamma micro led e quindi poi avere semplicemente il display definitivo e di sì che arriveremo veramente ad un punto di unione di tutto credo che appunto sia ottimo per il cazzeggio per l'intrattenimento magari con special audio quindi l'audio che in qualche modo filtra anche sotto il display avendo un audio molto più immersivo la compatibilità con dolby atmos e onestamente il face id posizionato su un'altra cosa ma più o meno questa è solamente una mia una mia fissa e avremo un ipad del futuro che sarebbe dovuto essere secondo me già l'ipad nel presente presentato un paio di mesi fa però apple causa pandemia credo abbia voluto dirottare le proprie linee su altri ambiti così facendo apple sblocca altri mondi quindi il face id che potrebbe arrivare su un ipad 5 quindi addirittura il touch id anche in un altro ipad si parla addirittura di un ipad base già nel primo semestre quindi praticamente l'ipad di ottava generazione muore semplicemente sei mesi dopo essere stato presentato quello che io avrei voluto in sostanza nel 2020 per per l'ipad pro ci ho fatto anche delle puntate su un ipad guy trovate il link ovviamente nelle note dell'episodio però credo che quel prodotto con una magic keyboard 2 che in un modo nell'altro diventa ancora più ricca non dico magari la touch bar però per esempio un ipad con lo stesso trackpad del mac potrebbe già essere un punto un nuovo punto oppure le porte thunderbolt o usb c in questo caso già usb 4 sfruttabili anche per i dati mi piacerebbe veramente questo onestamente spero poi una progettazione completa una riprogettazione di tutti gli accessori perché ho ancora qualche difficoltà con prodotti di un paio di anni fa continuando e arrivando in realtà al prodotto di punta che ovviamente deve essere iphone per eccellenza anche se ovviamente il mio prodotto di punta del 2021 sarà l'ipad pro e probabilmente magari un macbook pro da 14 pollici però se apple dovesse fare veramente un ipad piccolo quindi un 12 pollici magari nelle stesse dimensioni dell'11 con la possibilità di far girare nativamente le applicazioni per mac in in full screen io sarei già postissimo però diciamo che tra una cosa e l'altra un iphone 13 deve in qualche modo far capolino e qua apple deve calcare la mano differenza da iphone 13 apple ottimamente ha fatto nel 2020 la distanza tra un iphone 12 e un iphone 12 pro spingendo in alto l'iphone 12 e spingendo in realtà in basso comunque non aggiornando tantissimo il 12 pro quest'anno la differenza ci deve essere perché perché se no la gamma pro perde di senso perde di sping perde di senso per esempio l'ipad pro rispetto all'ipad air perde di senso un macbook pro rispetto a un macbook air quindi tutto ciò che abbiamo detto fino adesso quello che onestamente mi auguro è che la linea air continui quindi l'iphone 12 l'iphone 13 mi auguro che continui sullo stesso segmento quindi ovviamente le stesse linee quindi magari un display un po più luminoso ovviamente mi auguro che sia il modello in cui sperimentare il portless anche se credo che poi alla fine ce la prenderemo in saccoccia noi pro perché comunque non lo so perché comunque apple voglia togliere una porta io la trovo molto comoda ma ma sarà discorso che faremo a partire magari da giugno quando i rumori e i leak diventeranno più più massicci però credo che alla fine quello che apple debba realmente fare è massimizzare al meglio il max e il pro allo stesso modo questo vorrei fosse chiaro apple innanzitutto le stesse novità fotografiche il sensore stabilizzato e quindi non semplicemente la stabilizzazione ottica il 2,5 per semplicemente gli obiettivi più luminosi e quindi poi l'obiettivo ultra wide e wide magari appunto non stabilizzati sul sensore ma solamente otticamente saranno poi gli stessi due obiettivi le stesse due fotocamere anche dell'iphone 13 però ragazzi a questo punto le differenze quali potrebbero essere un notch più piccolo potrebbero essere i 120 hertz che non trovo fondamentali però mi piacerebbe che apple in qualche modo spingesse un pochino sull'acceleratore l'iphone fold non è una cosa che mi tocca e spero che sia un prodotto aggiuntivo nel 2022 si parla di un prodotto nel 2022 però credo che apple debba puntare su tante cose quindi magari iphone a partire da 256 giga non lo so mi bastano già i 128 dell'11 pro no del 12 pro 11 pro oramai è andato già da un po di tempo e poi quello che vorrei veramente vedere in iphone semplicemente è un prodotto che diventa sempre più maturo sempre più completo che sia il punto di partenza di un qualcosa che non deve per forza essere connesso all'iphone ipad e mac possono diventare ancora più indipendenti perché perché samsung lo fa se io ho un tab s7 e ho uno smartphone samsung collegati allo stesso samsung id io posso mandare sms e chiamare dal tablet e credo anche dal computer con il telefono acceso senza avere il telefono connesso in wifi quindi mi dimentico il telefono a casa dall'ufficio col mac posso telefonare posso mandare sms ovviamente messa già sempre supportato però ci sono occasioni in cui mi dimentico l'iphone a casa mi è capitato non è il prodotto chiuso di più o ipad con il modulo cellular quindi apple music spotify che non uso volevo dire podcast di uso comunque con con gli airpods e quindi mi piacerebbe avere un iphone che raggiunga la maturazione quindi sia il punto di partenza di un ecosistema non strettamente collegato e questo onestamente è una cosa che credo riguardi più il software che l'hardware continuando mancano ancora tre cose che vorrei fossero onestamente presentate nel 2021 la prima ovviamente riguarda il segmento degli airpods gli airpods le airpods max sono cuffie fantastiche lo abbiamo visto l'abbiamo sentito e onestamente spero di poterle provare in questo 2021 finora non ho avuto la possibilità e spero quindi di potermene mettere un paio in testa ovviamente in grigio siderale con il cavo nero perché ripeto sono due accessori imprescindibili secondo abbiamo altri due segmenti che non devono essere sottovalutati perché comunque sia il segmento degli airpods normali che degli airpods pro deve fare passe significativi in avanti sono auricolari che vanno benissimo entrambi io ho gli airpods pro mio fratello ha i miei vecchi airpods di seconda generazione però credo che apple debba migliorare l'uno e l'altro gli airpods pro potrebbero migliorare in termine in termini credo di corposità del suono di cancellazione di rumore ma anche di spazialità dell'audio visto che abbiamo appunto la virtualizzazione sulle airpods max mi piacerebbe vedere che anche gli airpods pro con ovviamente tutto un discorso di virtualizzazione maggiore di miniaturizzazione magari con un chip h2 possono migliorare e poi anche l'airpods max vedre non spero innanzitutto che non vengano aggiornate nel 2021 ma almeno fino al 2023 devono essere le cuffie per eccellenza però mi piacerebbero che fossero poi come dicevamo nelle scorse puntate anche l'inizio di una rivoluzione in hd per apple music e quindi poi tutto questo lega il mondo perché perché poi continuando sui prodotti che vorrei vorrei un apple tv più potente perché comunque stedia e luna quindi è da una parte google dall'altra parte amazon sono in realtà presenti cyberpunk 2077 forse il gioco fine 2020 e ovviamente inizio 2021 è sfruttabile tantissimo su stedia io ho avuto la premiere edition gratis tramite il mio abbonamento su youtube premium quindi comunque ho una chromecast hd e ho il controller io non sono un videogiocatore mio fratello voleva comprare una ps5 onestamente si trova benissimo con la chromecast e con stedia apple dal suo canto potrebbe spingere ancora di più il tutto e potrebbero farlo in due direzioni innanzitutto un set up box onesto deve essere quindi più prestante un processore a 14 potrebbe essere essenziale per far girare dei giochi in maniera più prestazionale d'altra parte nel 2020 abbiamo visto in realtà l'evoluzione che google ha messo in campo con la nuova chromecast con un sistema operativo dedicato apple il sistema operativo ce l'ha già si chiama google si chiama tv os google tv in realtà è il sistema operativo che appunto gira a bordo della nuova chromecast e funziona veramente bene vorrei quindi per chi non ha necessità videoludiche quindi non vorrei giocare con una apple tv per quanto poi per esempio mio fratello vorrebbe poterlo fare visto che tra le altre cose appunto apple arcade è incluso per esempio in apple one ne parlavamo un paio di settimane fa in realtà se io devo vedere i contenuti di disney plus di apple tv plus di youtube di netflix di prime video di twitch eccetera eccetera posso quasi vederli tutti in altri in altri segmenti però mi è capitato durante le vacanze di natale è uscito un documentario che ho acquistato se ho a project di stefano tiozzo vi lascio il link nelle note dell'episodio perché è un progetto onestamente interessante che ho supportato sia durante il primo documentario che durante questo per cui se se volete vedere potete comprare il documentario e vedere appunto il il buon lavoro che stefano che stefano tiozzo e la sua crew ha fatto questo mi ha portato semplicemente con un telefono un iphone 12 pro a streammare in 4k il documentario sulla televisione questo cosa vuol dire vuol dire che onestamente se avessi una televisione compatibile con airplay 2 sarebbe tutto più semplice ma visto che ho una philips che non supporta questa funzione mi piacerebbe vedere una tv tic un qualcosa tipo chromecast tipo far tv stick quindi se appunto abbiamo abbiamo un ecosistema apple in casa mi piacerebbe quindi poter magari avere la apple tv intesa come apple tv sulla televisione principale e poi magari un una stick una apple tv stick sugli altri sugli altri televisori quindi magari un televisore della cucina che sicuramente non sarà il più evoluto potrebbe tranquillamente essere sfruttabile al meglio e poi ragazzi ci manca un solo prodotto che è l'apple watch l'apple watch credo che nel 2021 sia il prodotto a cui presterei più attenzione non che in realtà un iphone un ipad o un mac non saranno prodotti buoni anzi l'ipad è il prodotto che aspetto con con più attenzione il mac onestamente vorrei vorrei vedere la direzione che prenderà e l'iphone ovviamente resta il cuore di tutto l'ecosistema ne parlavamo prima però si parla di cambio di design si parla di un design squadrato e io lì vorrei vedere non aggiungo altro è proprio il sentimento che ho di curiosità verso un prodotto del genere perché è il prodotto più intimo che abbiamo l'apple watch è un prodotto che abbiamo al polso che abbiamo sempre con noi nel mio caso ne ho due uno la mattina e uno la notte quindi uno o apple watch day e apple watch night e vorrei veramente vedere la direzione in cui i due prodotti andranno non vedo l'ora di vedere il nuovo apple watch che cosa sarà spero di fare upgrade in questo 2021 lo volevo fare nel 2020 è uscito il serie 6 ne parlavamo appunto settimana scorsa perché monitoraggio della pressione non lo so oppure la questione dei cinturini smart non la vedo di buon occhio perché comunque io sono un po schizzinoso e mi piace vedere il pin in acciaio con l'apple watch in acciaio quindi poi lì sarà veramente un bel casino in maniera positiva vedere la direzione in cui in cui il tutto andrà e poi ragazzi il software il software in questo 2021 come dicevamo appunto nella puntata adesso dedicata vorrei fosse sinergico vorrei andasse avanti nei quattro ambiti contemporaneamente che poi adesso sono cinque perché ios ipad os sono la stessa cosa però no non sono la stessa cosa apple 2021 per favore app library su ipad per favore non ti chiedo altro cioè mi porti app library su ipad io sono contento poi certo se mi porti tutto ciò di cui di cui ho parlato quindi la possibilità di avere la doppia anima del mac con la magic keyboard sarei contento anzi in realtà sarei contento se ipad ritornasse a montare ios quindi ios è il sistema operativo degli ipad e gli ipad pro avranno in esclusiva ipad os quindi un sistema operativo ibrido e questo secondo me potrebbe essere il punto di partenza un sistema operativo che in un modo o nell'altro va a combattere appunto un'anima forse ambigua dell'ipad e come racconta il buon giulio brottini nel link che vi metto nell'enato dell'episodio il nuovo sistema operativo deve passare dalla magic keyboard però a questo punto tutti gli ipad devono essere messi sullo stesso piano io non credo non credo di voler vedere da utente di ipad pro final cut girare su un prodotto piccolo su un ipad magari di nona generazione su un ipad air 4 magari appunto su un 12 pollici che potrebbe essere anche un pochino il vecchio macbook con una sola porta usb c in maniera rinnovata nel 2020 potrei iniziare magari a preferirlo e quindi più o meno questo è quello che vorrei vedere due grandi assenti magari li avete notati sono inevitabilmente l'ipad mini perché comunque con un prodotto come l'iphone 12 pro max da 7 pollici un ipad mini non ha senso in realtà l'avrei voluto ma poi pensandoci bene ho detto ok abbiamo il nuovo ipad che potrebbe partire da 10 pollici e mezzo abbiamo ovviamente l'ipad air da 11 pollici un ipotetico ipad da 12 e da 14 pollici quindi alla fine l'ipad mini non serve così come sull'altro lato non serve l'iMac pro l'iMac pro già morto secondo me nel 2020 con l'ultima versione di intel visto che abbiamo visto appunto la nano texture del pro display xdr a 500 euro ulteriori che però sia un trattamento in qualche modo cross platform quindi anche gli ipad pro con la nano texture anche l'iphone pro magari con la nano texture e quindi l'iMac pro onestamente non ha senso mi piacerebbe veramente più semplicità quindi appunto tre modelli per ogni due o tre modelli per ogni per ogni segmento e questo più o meno quanto e poi 2021 l'ho tenuto come ultimo perché ovviamente è un pochino il mio guilty pleasure devo essere sincero un nuovo ipod touch a ottobre di quest'anno saranno 20 anni dalla presentazione del primo modello ipod ipod è forse l'anima di apple è un prodotto che ha avuto mille varianti ha avuto il nano il mini l'ipod classic l'ipod shuffle l'ipod video l'ipod non l'ipod touch ovviamente e credo che forse potrebbe esserci innanzitutto buon spunto per un nuovo ipod touch che prenderei all'istante devo essere sincero l'ipod è il prodotto che utilizzo di più a letto leggero sottile funziona da dio a ios 13 e e onestamente funziona da dio anche con il 14 l'ho comprato appunto con a ios 13 funziona benissimo con con l'ultimo aggiornamento al display un po piccolo e ha i controlli vecchio stile quindi un touch id sul tasto home visto che ha il tasto home e basta oppure addirittura un touch id sul sul tasto power magari con la fotocamera frontale magari con un noccia goccia o comunque un noccino piccolo una sola fotocamera posteriore con il flash magari un processore a 12 io lo comprerò all'istante ragazzi devo essere sincero e poi credo che ci sia la possibilità di vedere un nuovo ipod nano o un ipod shuffle con il wifi configa configurabile magari con con itunes o con con altri dispositivi per fare quello che fa già apple watch quindi io ho la possibilità di comprare un dispositivo a poco e collaboramento apple music posso spararci dentro la mia musica quindi l'applicazione watch che diventa un pochino più completa essendo il punto di partenza verso il resto dell'ecosistema quindi poi la stessa applicazione potrebbe arrivare anche su altri dispositivi per poter connettere tutto a tutto e da questo punto di vista ipod potrebbe tranquillamente essere un buon un buon viatico per per vedere un po di passato nel presente in ottica futura per cui direi che adesso che vi ho detto tutto ciò che mi aspetta non non vedo l'ora di vedere cosa cosa ci regalera la tecnologia cosa ci regalera apple cs di las vegas in questi giorni arrivano già le novità più importanti tipo amd che a questo punto deve rispondere ad apple con m1 e quindi direi che l'appuntamento è rinnovato per la prossima settimana sempre di mercoledì alle 17 si torna in diretta e per tutti voi che mi ascoltate in podcast basta aspettare un'ora in più alle 18 più o meno trovate ioetech spalmato su tutte le piattaforme e spero che possa essere il mio grazie per questi cinque anni passati insieme perché veramente è un'avventura che mi mi auguro possa in qualche modo continuare anche in vostra compagnia buona fine feste ci sentiamo mercoledì prossimo alle 17 con ioetech ciao this episode has been produced with pot cleaner discover more at potcleaner.com Grazie a tutti